Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie! Ecco quando l'estate e l'inverno, le due stagioni che dividono gli appassionati del meteo. Chi dice, finalmente il caldo? E chi si chiede, quando finisce il caldo? Al di là del gusto personale, è arrivata la prima fase meteorologica estiva sulla nostra Italia dopo settimane molto instabili. Saremmo sotto un contesto anticiclonico per qualche giorno. Davvero poche novità da dire fino a mercoledì 21. Da giovedì 22 arriva una veloce saccatura atlantica, che potrebbe portare pioggia e temporali su alcune zone del nord. Secondo i modelli, non si tratterebbe di fenomeni particolarmente diffusi e si registrerebbe un moderato calo delle temperature. Tuttavia, con questa configurazione meteo, le regioni del nord-ovest potrebbero sperimentare episodi di favonio. Un vento molto caldo. Quindi, nonostante l'umidità relativa risulti bassa, le temperature potrebbero comunque rimanere intorno ai 33 o 35 gradi diffusamente in pianura padana. Nonostante ciò, il contesto sarà decisamente sopportabile. Assisteremo ad un passaggio dall'anticiclone africano a quello delle azzorre, quindi l'estate continuerà senza intoppi per alcuni giorni, in un contesto tipicamente soleggiato. Al momento, lo spauracchio di un'estate simile alla terrificante 2022 è scongiurato. Anche perché stiamo uscendo da un periodo piovoso e fresco. È probabile che giugno 2023 risulti un po' più caldo della media, ma sicuramente anche più piovoso. Tuttavia, in alcune zone d'Italia, sarà una fase meteorologica calda ma non eccezionale e, inoltre, non durerà troppo a lungo. Rimanete sul canale per ulteriori aggiornamenti. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti.